11 dicembre 1909 Guglielmo Marconi viene insegnito del premio Nobel per la fisica. L'Accademia di Stoccolma conferisce il riconoscimento allo scienziato italiano e al tedesco Karl Ferdinand Braun per i loro contributi allo sviluppo della telegrafia senza fili. Finalmente l'Italia si muove. La marina mette a disposizione di Marconi l'incrociatore corazzato Carlo Alberto. È il 1902. La Carlo Alberto, partita dal porto di La Spezia, supera lo stretto di Gibraltar e raggiunge il porto di Plymouth dove Marconi si imbarca per Sydney in Canada, nell'isola della Nuova Scozia. Durante la traversata Marconi collauda il nuovo tipo di ricevitore, il detector. Nella Nuova Scozia è stata installata la base di Glace Bay. Ora Marconi è pronto a ripetere la grande prova attraverso l'Atlantico in maniera ufficiale e definitiva. Questa volta la trasmissione avverrà nei due sensi. La lettera V e la lettera S attraverseranno l'oceano da Poldo a Glace Bay e viceversa. Per oltre un mese i risultati sono negativi. Marconi non riceve nessun messaggio e continua a telegrafare a Poldo in codice standard, 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 cioè ricevuto nulla. Si profila un insuccesso totale. Finché il 16 dicembre 1902 alle 7 del mattino un telegramma annuncia la vittoria. A Poldo sono arrivati chiari tutti i segnali. E' il trionfo. I marinai e gli ufficiali della Carlo Alberto inneggiano alla vittoria e nel duro e implacabile inverno artico con una temperatura di 30 gradi sotto zero la bandiera italiana viene issata sul pennone. Edison dichiara questo giovanotto mantiene più di quanto promette. Tutto il mondo si inchina al genio del giovane scienziato. Lo storico inglese Sewells scrive Marconi può essere considerato come il costruttore di una nuova epoca. seick Somebody It's e you It's it's a One